ragazzi ho il visore termico fissato a una maschera che in pratica avevo quando ero piccolo che era tipo sapete quella la che in pratica vedevi gli alieni una cosa così io ci ho fissato il telefono con quest'app del visore termico ed è fighissimo tut 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 Ed è troppo figo Ragazzi è fighissimo Non capisco una merda Ma è un'idea geniale Ho acceso la torcia Così vedo pure nei posti bui Perché sennò l'app del visore Non funzionava bene Ragazzi è troppo figo vi giuro Concludo qua il video Perché era una cosa di breve Per farvi vedere Adesso posso pure tenere le mani L'armi con due mani E' fighissimo E' un'idea geniale